Il presidente uscente Roberto Lupi è l'unico candidato per la presidenza provinciale degli Alpini. La votazione dei delegati è in programma il 20 febbraio a Rivergaro. Lupi è alla guida delle penne nere piacentine dal 2013 dopo aver raccolto il testimone da Bruno Plucani a poche settimane dall'orma istorica ad un'ata nazionale di Piacenza. È stata un'esperienza molto bella, entusiasmante e molto impegnativa perché chiaramente i 45 gruppi sparsi tutto il nostro territorio, tutte le attività sezionali, i rapporti con le altre sezioni con la sede nazionale sono tutte attività molto impegnative, però di estrema soddisfazione. Io sono tantissimi anni che frequento dall'83 e che frequento l'associazione, mai con questo ruolo naturalmente. Chiaramente l'impegno è aumentato ma le soddisfazioni sono veramente tante. Cosa è che ha dato più soddisfazione in assoluto? In particolare l'attaccamento di tutti gli Alpini alla nostra associazione, quindi la disponibilità sia nei casi più gravi di emergenze, quando interveniamo con la protezione civile, ma in generale tutte le volte che ci sono attività da fare, opere di beneficenza, aiuti verso gli altri, ho sempre trovato da parte di tutti gli Alpini, di tutti i gruppi, tantissime disponibilità. Nei prossimi mesi è prevista l'inaugurazione della nuova sede, ovvero la casa cantoniera di Via Cremona che ha ospitato il comitato organizzatore della Dunata. Il sogno nel cassetto è quello di poter realizzare nella nuova sede dove siamo entrati anche un museo della nostra sezione, perché abbiamo tantissimo materiale ormai storico, perché la nostra sezione è stata fondata nel 1922, quindi ci avviciniamo, diciamo quasi, non siamo tanto distanti dal centenario, abbiamo tantissimo materiale storico che ci piacerebbe poter mettere a disposizione in un museo. Tra i tanti appuntamenti del 2016 spiccano la Dunata Nazionale di Maggio ad Asti, il raduno interregionale a giugno a Capanette di Pei e la Festa Granda di Bobbio a Settembre. Questo fine settimana invece a Vigolzone è in programma il raduno regionale per il 73esimo anniversario della battaglia di Nicola Iefca. Sabato sera è prevista l'esibizione dei cori, mentre domenica la sfilata alla presenza del presidente nazionale dell'ANA, Sebastiano Favero.